Carte sporche sui marciapiedi, piante infestanti lungo i margini dei palazzi e decine e decine di mozziconi di sigarette. Per non parlare dell'odore di urina che si sente agli angoli delle stradine. È il quadro che ormai caratterizza il centro storico di Cremona e che suscita non poco sdegno tra i cittadini che lo frequentano, rassegnati a dover fare l'abitudine con una situazione che rende la città del Torrazzo non più un gioiellino come vorrebbero. Guardi lì sotto che roba, lì di notte passano e urinano, ci sono dei miasmi in giro che è una cosa pazzesca, guardi, veramente. E la nota, la città sporca? Sì, 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 tantissimo, guardi, è trascurata, non ci stanno più dietro, io dico che non ci stanno più dietro perché se no non sarebbe così. In particolare cosa nota? Ecco, noto l'erba, i ciuffi di erba sui marciapiedi, provi a farla via a Bunomelli e poi vedi. Nel centro storico già c'è non sempre in ordine, non sempre pulito, purtroppo è una situazione che probabilmente si presenterà anche fuori. Poi ci sono alcune piazze anche che vengono utilizzate molto, soprattutto in alcuni orari serali e anche lì non essendoci un controllo, i cestini ci sono, ma se la gente non è stata abituata ad utilizzarli difficilmente lo fa e quindi anche lì ci sono rifiuti, eccetera. Bisogna anche ricordare che sono importanti anche i servizi igienici perché noi qui li abbiamo solo per alcune ore nella zona centrale per consentire alle persone di non espletare i propri bisogni ovunque ma di avere un'attenzione anche in quel senso perché a volte succede anche questo, purtroppo io abito in centro, normalmente questi servizi sono poi chiuse a un certo orario. Io avevo il cane, capitava di uscire la sera e di trovarmi davanti uno nella via, ma qui non stiamo parlando di zone periferiche che facevano i propri bisogni, non mi sembra una cosa accettabile e nonostante le lamentele e tutto quanto andavano avanti a farle quindi anche questo non è una cosa positiva.